bella rega bentornati seconda parte dell'apertura del box calciatori panini figurine 2017 2018 ve lo sto veramente divorando in un'unica giornata lo ammetto rega se sentite il sottofondo da tv perché c'è sta minonna dell'acqua ad alto volume io sto solo con lei in casa quindi ci devo avere mille occhi e mille orecchie però nello stesso tempo come voglio aprire queste bustine e portarvi il video poi rega vi anticipo subito veramente di iscrivervi che c'ho una delizia per voi per la prima lotteria dei calciatori delle figurine calciatori veramente perché già me l'avete chiesta andate poi e leggi commenti insomma ecco così da credere ai vostri occhi ciò che sto dicendo perché magari posso dire una cosa o un'altra giusto per e invece no rega già mi è stata chiesta la lotteria addirittura di essere di iscrivervi ancora prima che io l'aprissi no vabbè eccetera eccetera ancora di sapere il premio se cose qua e via dicendo comunque vi ricordo che è ancora aperta la quarta ed ultima lotteria degli adrenaline contest così chiamato pure mi raccomando partecipate perché mi fa piacere insomma ma ecco detto ciò mi vado ah voglio fare subito una premessa veramente rega una promessa e giuro solennemente che cerco di di essere più rapido possibile questa volta perché veramente sono stato troppo eccessivo nella prima parte però vabbè rega sarà che era la novità bo non lo so ora sono un po più preparato per i carità vedremo un po se è vero via partiamo parto partite dai voglio sapere subito nei commenti quanti di voi già hanno completato l'album perché molti c'è molti perché ci stanno dei venditori che già hanno album e con le sticker le figurine già tutte complete il set e lo vendono e quindi gente che anziché acquistare le bustine come faccio io insomma preferiscono acquistarlo completo cosa che a me sinceramente mi sta un po sulle balle perché comunque sia c'è cosa più bella che trovarle da sole le figurine stessa cosa facevo sto discorso con oh no attenzione subito si parte così con la maglia dell'inter e già mi sono ascoltato che stava a dire si è messo a fuoco si un attimo solo controllo mamma mia che stava a dire che ha mannaggia miseria c'ho bisogno dei sottotitoli quando quando parlo comunque mannaggia miseria anzi no del gobbo quello che praticamente rega si utilizza in televisione per suggerire al conduttore no quello il discorso che devi dire come me serve una cosa del genere molto bene rega seconda seconda bussina pacchetto un bel dalbert poi andiamo andiamo qui ci frega un po di meno anche sfortuna ma che novità stadio della spalla e avellino la squadra insomma rega vi annuncio che a parte già ho detto la lotteria ma più tardi vo dico alzo il culo e me vado a prendere un altro box rega vedica verità e c'ho pure una bella sorpresa per voi allo stesso tempo da lieva ricardo alvarez o già luigi donna ruma ecco qua i pezzi da 90 che c'entra mo la sveglia ah già richiesta carte clash royale eh sì davvero davvero nerd allora ottimo solo eh me sto a perdere oh gonzali guain subito prepotenti e andiamo vai veloce perché l'ho detto voglio aprire più velocemente possibile e il bologna anche se non metto a fuoco bene questi cavoli rega vedi che la verità mi soffermo soltanto sulle figurine deni e denota mamma mia gonzali guain subito vai con i sai pure niente male eh rega se ancora non avete comprati luca sbiglia addirittura con the blonde in capo se ancora non l'avete fatto andate a comprare l'album perché qui c'è il vostro rm che farà tanti bei regali eh mi raccomando poi ne saprete più avanti con il tempo siamo appena gli inizi ragazzi secondo giorno anche perché anche se sto registrando lo stesso giorno della prima parte però comunque sia eh lo caricherò poi domani quindi il secondo giorno dall'uscita no ok mi sono capito da solo come al solito che sfortuna e serie b dai dai veloce veloce basta mi sono già rallentato non voglio più parlare voglio solo scartavetrà sti belle sti bei pacchetti patrick va bene ce ne ho un po se mi metto a fuoco bella maglietta che sfortuna e serie b ne faccio vedere così rega sempre tre insomma è da quando quando è che il primo album veramente vado a spistare perché è una cifra se parlerà del 95 96 pensa il mio primo album c'avevo meno stato 88 96 avevo sei anni no 96 ah mai sto a far macello c'avevo otto anni ecco quando ho comprato il primo il primo album eh se mi sono sbagliato peggio per me che sono buono a fare i conti tra l'italiano amate amati mannaggia amaroish ma non guai vai 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 coraggio coraggio non mi devo fermo a parlare come un idiota oh milan scriniar mettiti a fuoco per gli interisti rega va vista sta carta figurina sta carta ancora stava di mattia svesino questa che ha bussina dell'intero e che diamine che sfortuna ternana e cesena ok mamma mia rega ho completato già l'album a sto punto comunque ripeto veramente comprate direttamente il box come quando appena esce l'album perché veramente ne trovate tutte e vale tipo l'ottanta 80 per cento dai io voglio proprio esagerare che sfortuna pink bari ovviamente effemmono eccole qua e cittadella bella partita contro la lazzi andiamo andiamo su lascia qualcosa di buono eh che ci fa drissare i capelli o se palo palomino sì c'ho stesso nome mio però io c'ho innanzitutto si Antonia e poi sono da america centrale il salvador un sargent vinar vai cristian pugioni che sfortuna mamma sto facendo collezione che sfortuna comunque davvero regà per trovarle i cartoline che fortuna o hai vinto eccetera ce ne vuole questa sono già altri 25 busta riel vedremo un po riccardo saponara me lo compra pure una bella webcam una videocamera che fa belle riprese modi o dico faccio ma regalo per natale o andrea pinamonti perfetto o hai vinto una bussina dai questa già la terza mi è stato chiesto se quelle precedenti che ho trovato le ho già ritirate e per chi lo volesse sapere insomma che è curioso di saperlo risposta la risposta è no vorrei accumulare accumularne un paio prima di regarmi in eticola e prenderle tutte insieme se non c'è veramente ogni volta che devo prendere uscire insomma ecco in sostanza questo è il succo il succo del discorso è mi raccomando pure voi date dentro quei cartoline che fortuna hai vinto perché attenzione ali per volare dell'interno a questa ma di metà a fuoco per forza così ma ricordo con perisic e candreva comunque rega allora innanzitutto grazie per colore che mi hanno detto che finalmente le queste anzi faccio prima a prenderle e a mostrare perché tanto ce l'ho qui vicino ecco innanzitutto regasti queste sono scudetto bah e fin qui non ci piove e praticamente le si trovano dentro le bustine gialle quindi le bustine gol insieme ad altre figurine come questa rega i trofei io ho avuto invece la fortuna di trovarlo nella nel pacchetto normale comunque insomma ecco e poi altre figurine oddio come sfugge non sono andato a vedere prima già ho visto un altro dell'inter rega non ci posso credere mamma mia cioè praticamente a tutto il contrario dell'adrenaline che mi ha seguito nell'apertura e con le note di metà a fuoco se no veramente non c'è stato non ha senso e nella treni rega quelli dell'inter e dei carciatori non li trovo mai io invece qua sta con tutta la rosa tra un po che devi fa ne fai un favore ti metti a fuoco guarda proprio qua il poverino ian caramò non me ne vogliate rega cosa che sta a fare razzista sta videocamera famo un attimo così vediamo un attimo olle e i trucchi proprio mamma mia a japong bravissimo masina e che sfortuna e via dicendo ascoli e spezia dai dai su insomma già un top un altro top player ha trovato i guaino ieri paolo di bala no l'altro ieri paolo di bala poi ieri ed inizio e gioco mamma mia che voglio più davida un lugano mattia del ciglio spettacolare stefan radu vabbè che sfortuna stadio del crotone e stadio del torino stadio olimpico grande torino niente male dai dai su che c'ho paura pure che se che ne so che ne so mi sono un orcitofono non posso rispondere perché sto da solo con mi nonna vai corci 4 attenzione qui esplodono esplodono proprio le le figurine dai qualche strozzata devo dire fatemela passata su coraggio che a capita metta mi piace mi raccomando come sostegno morale per quanto so stupido allora le brescia femminile e a vediamo un po qui perché ne ho trovata una nel questa dovrebbe essere il film del campionato ecco non mi veniva rega perché alcune se ne se ne trovano si trovano all'interno delle ritroviamo dentro le bustine pacchetti altri invece con in esclusiva della gazzetta voleva riuscire insomma da gennaio un po se non ho capito male poi dovrò andare a rivedere comunque rega veramente compratelo c'è poco da dire è roba seria qua eh a parte beh io so a due parti a parte io so a due parti ma che ho fatto la scioglilingua cioè nel senso perché io preferisco la serie a alla champions queste cose qua no perché nei video degli adrenalin xl stipe perica mi veniva chiesto se portavo anche le match match attacks una cosa del genere insomma sinceramente per me c'è nel cuore nella tezza c'è soltanto la serie a verica verità carci italiani lo patriottico non c'è niente da fare scuro di pelle ma patriottico vai vai su basta così sto di un sacco dei scemenzi vediamo non ho vinto la maglia del genoa molto bene non posso me la metta a fuoco non credo va bene sta a fare i problemi suoi e nianche va bene va bene la voglio aprire da qua sotto vediamo se porta fortuna eh allora federico di francesco non è un calciatore qualsiasi andrea conti che sfortuna ho un'altra carta bella metallizzata o ne vedo due a questa è una grande fortuna credo poi se a qualcuno di voi capita anche alla stessa cosa che è questo l'oro di cagliari di trovare ne due o speranze azzurre crotone vediamo un attimo dietro un attimo uno sguardo no niente ammazza due metallizzate in una bustina bella bella proprio regà ne vuole bene sto box ne sa eh fatemi sapere pure voi se riuscite a trovare due metallizzate in un'unica bustina eh veramente sono curioso potrebbe essere un errore di fabbrica capito non so se rendo l'idea va bene va bene non va bene ma quanti in benedica poi ci avevo palermo e sotto oh attenzione la squadra della juventus bella bella aspettavo una carta dei serie b via verità dai dai su se mai sgoccio li è dai pure ci ha messo pure di meno a sto giro allora oh mira l'empianic bella credibile sarà che il nero bianco a me sono due colori o nero bianco di carità per me non esistono sfumature dei grigi eccetera forse se un po' mi attrago i colori da juve però non la posso vedere via via la polizia e sta provando pure il naso eh annaccia miseriaccia allora vediamo un po' widmer rosi valodi un altro pio del under poi riad bacic e fiorentina woman no woman no cry eh che tonalità che c'ho volevo far cantante altro che lo youtuber mamma mia questa ma che ha fatto ma ma ti ha preso un palo in fascia dai e su questo ha fatto il lazarone che ha capito a metta piace me da quando eh questo è gianluca di scura dai ce l'hai per tutti qua raga attenzione scudetto sì finalmente scudetto del bologna grazie agli utenti che mi hanno detto che se li si chiamano scudetti punto fine della storia vediamo un po' raga ultime tre busti real e che bustine che parla sono brutte sono pacchetti dai dai federico bonazzoli si vede sì sì si vede poi badeli bianchetti che sfortuna provercelli attenzione me lo voglio spizza piano piano niente provercelli e salernitana se ne sbaglio eh raga mamma mia guarda qua che auto messa a fuoco automatica però comunque è davvero dico faccio io voglio comprare una videocamera che è bruttita veramente che pare che stai che c'è stai dentro veramente quando fai riprese roba seria che sfortuna attenzione vedo un brillantoschi che sarà che sarà che sarà oh tradizione di famiglia ah raga ma sai che sono proprio queste figurine ah no 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 sto di una stronzata una grande scemenza apposta apposta comunque queste devono essere proprio orari sono tipo le cose le carte no è parte idolo è super draft ahahah bene ultima bustina raga c'è sta pure un bel metallo dietro bella per me allora me lo voglio proprio gustare Alex Ferrari Adrian Stojan Luca Storramazzo manco uno eh le spicco addirittura altre due bombe a mano uno una è una figurina è eh lo scudetti del cittadella e della Virtus no che cazzo dico buh e 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 Maurizio Sarri bamma il mister spettacolare raga e il mister ha trovato bella Maurizio Sarri vabbè raga basta così eh non ci riesco a farle più corti sti video mi sa che sono troppe bussine ne apro tutte insieme però se non faccio così eh non finisco mai perché c'è un sacco di roba da aprire veramente e poi tanta roba da portare a voi raga perché vi ricordo che qui qui il sottoscritto mi vuole vedere contenti mi vuole vedere dispiaciuti eh veramente cazzarola ah mi voglio dei corsori son fascia quindi che significa che qui Babbo Natale anche se è un po' più affumicato del solito non c'ha la barba bianca però sapete che mi fa piacere regalarvi le cose e mi raccomando basta così ho detto troppo mentre ho allargato ho anticipato pure abbastanza ok tutti bei eh meno meno al prossimo video raga mi raccomando restate connessi perché qua se fa sul serio se casseggia non lavoro qua solo per me ma lavoro pure per voi un bacione un abbraccio e mi raccomando fate i bravi ciao belli